E' una grande manifestazione sorta per merito di una consapevolezza proprio nel territorio di un piccolo paesino, l'Italia Veneto, dove esistono 25 associazioni e dove si è creata con il tempo la possibilità di lavorare all'interno del colloquio in un altro modo, è nata sulla base della consapevolezza che ognuno di noi qualcosa deve fare per cercare di cambiare con le sue piccole decisioni, con le sue piccole scelte, cercare di cambiare un po', di tentare o meglio di cambiare un po' quello che ci circonda al mondo. Ha tre grandi fondamenti, tre grandi principi per un futuro sostenibile, eticamente allora per un futuro sostenibile, per un'economia di giustizia e per i diritti dei popoli. Eticamente si fonda sulla consapevolezza che le risorse del mondo sono finite e noi non possiamo far finta di niente. Eticamente si fonda sulla consapevolezza che non è giusto che l'80% degli abitanti del mondo viva con meno di un dollaro al giorno, che non è giusto che ci sia tre quarti della popolazione del mondo che non ha libero accesso all'acqua. Eticamente si fonda sul pensiero che ai bambini non devono essere rubati i sogni. E il tema di quest'anno vuol dire criticamente dalla parte di tutte quelle donne che sfidano con coraggio la potenza delle tradizioni.